sto imparando un colpo nuovo sto modificando un colpo vecchio come faccio a capire se questo colpo l'ho davvero imparato o se la modifica è realmente effettiva intanto per essere effettiva una modifica io devo soddisfare due condizioni fondamentali uno è il fattore di stress quindi devo riuscire a farlo sotto stress la seconda devo riuscire a fare quella cosa senza pensarci noi oggi vedremo due esercizi molto interessanti per capire se quello che state cambiando o che state imparando è stato realmente acquisito sicuramente quando si gioca o si palleggia e uno prova una cosa nuova il tempo che uno ha per pensare a quella cosa nuova fa sì che possa sembrare di averla acquisita perché io gioco in palleggio con il mio amico col maestro una palla comoda quindi ho tutto il tempo di pensare al colpo a quello che devo cambiare a quello che sto modificando e mi riesce abbastanza bene però che cosa succede quando la situazione cambia quindi noi adesso andremo a vedere due esercizi molto interessanti il secondo più completo del primo poi vi spiego perché e per capire se quello che sto imparando è immediatamente disponibile in una situazione dove sono un po stressato o dove non ho il tempo di pensare quale potrebbe essere la situazione di stress sto giocando una partita o il match point a favore o il match point contro il mio avversario in un angolo io devo giocare una palla nell'angolo opposto ma devo riuscire anche a giocarla anche se non è veloce però la devo piazzare abbastanza bene allora in questo caso che movimento farò quale sarà il mio istinto che cosa prevarrà quindi se io in una situazione del genere faccio il colpo che ho imparato che sono riuscito a cambiare vuol dire che questo colpo mi dà la sicurezza di poter gestire una situazione di stress con il nuovo movimento la seconda richiesta è quella di riuscire a farlo senza pensare quando io guido la macchina non ho bisogno di pensare perché lo so fare quando io vado in bicicletta stessa cosa e allora gli esercizi di oggi cercheranno di ricostruire una situazione dove io avrò una leggera situazione di stress e non avrò il tempo di pensare vediamo il primo esercizio intanto premessa gli esercizi si possono fare col maestro o anche con un amico è disposto a tirarci la palla palleggiare con noi primo esercizio sarà un esercizio fatto in palleggio vi consiglio di mettere una telecamera di riprendervi così potete osservare meglio quello che succede anche perché non avrete il tempo di pensare e quindi l'unico percezione che avrete sarà una percezione di movimento una sensazione che deriva dal movimento a posteriori sarà anche vedendovi nella ripresa che avete fatto quindi sempre meglio farsi un video il primo esercizio consiste nel dissociare la mente da quello che state facendo per dissociare la mente noi dobbiamo ingannarla un pochino e quindi noi dobbiamo cercare di pensare a qualcos'altro allora mentre si palleggia si penserà ad una sottrazione un pochino complicata chiaramente perché io sto giocando a tennis ma allo stesso tempo devo dentro di me o anche ad alta voce fare questa operazione 150 meno 3 poi 147 meno 3 144 e così via in questo modo voi non avrete il tempo di pensare al movimento al colpo alla preparazione e dovrete semplicemente continuare a giocare facendo la sottrazione il secondo esercizio è al cesto quindi il vostro amico o il maestro vi lancia la palla al suo comando 1 voi dovrete giocare lungolinea al comando 2 invece dovrete giocare il diagonale fin qua non è così difficile ma che cosa succede se la chiamata viene fatta in ritardo quindi con la chiamata ritardata io fino all'ultimo non so dove devo giocare allora questo migliora altri aspetti anche migliora la mia capacità di ricerca di palla perché meglio arrivo sulla palla più facile sarà cambiare all'ultimo momento il colpo e migliora anche la mia capacità di cambio quindi la capacità di trasformazione anche in questo caso non c'è proprio il tempo di pensare a come tirare ma bisogna pensare a dove tirare se poi vi mettete anche un piccolo giochetto che vi crea un po di stress meglio ancora ad esempio se sbaglio faccio delle flessioni o faccio una corsa intorno al campo o perdo la scommessa col mio amico quindi un leggero fattore di stress aiuta in questo esercizio un altro cambio quale potrebbe essere potrebbe essere il cambio di numero quindi il mio amico mi dice 1 2 1 l'ultimo numero è quello che conta e quindi io lo stesso fino all'ultimo non lo so che cosa devo fare questo esercizio risponde ad uno stimolo uditivo però quando si gioca tennis lo stimolo è più visivo perché io guardo l'avversario vedo come si mette e devo riuscire a capire prima possibile dove va la palla e quindi sarà più uno stimolo visivo allora noi adatteremo questo esercizio ad una condizione più reale ed è una cosa che succede abbastanza spesso ad esempio il mio amico o il maestro quando mi lancia la palla si sposterà da un lato e io dovrò giocare nel lato libero nel campo libero quindi attraverso lo stimolo visivo lui lancia la palla si sposta ecco e io gioco lungolinea oppure mi lancia la palla si sposta dall'altra parte e io gioco da questa parte qua oppure terza situazione lui viene in avanti e io gioco lob quindi ho un colpo in più da fare ho una variazione in più da fare quale potrebbe essere la difficoltà qua dipende da come si sposta il mio amico che mi lancia la palla si potrebbe spostare all'ultimo momento potrebbe fare la finta tornare indietro quindi potrebbe fare tante cose questi esercizi assolutamente non vi danno il tempo di pensare al colpo e sono molto istruttivi perché è realmente quello che succede in una condizione di gioco è chiaro voi lo potete fare per il dritto lo potete fare per il rovescio lo potete fare alternato cioè le variazioni ve le potete anche inventare però la base dell'esercizio è questa una volta che io mi sono ripreso e vedo che magari il mio movimento è uguale a prima non sono riuscito a cambiare perché l'istinto mi porta in queste situazioni a fare la stessa cosa che facevo prima allora mi dovrò allenare di più c'è bisogno di più tempo per consolidare il movimento nella memoria profonda far sì che questo colpo diventi il primo colpo che mi dà la sicurezza quando il colpo che io sono riuscito a cambiare a modificare l'aspetto che ho cambiato è quello che viene fuori per primo vuol dire che l'ho imparato veramente buon tennis a tutti